Viviamo in un paese in guerra che ha costruito la sua sopravvivenza sulla sicurezza militare, eppure sappiamo che proprio in questo paese, in un altro tempo, in un'altra stagione difficile della sua storia, duemila anni fa, Gesù, figlio di questa stessa terra, ci ha ricordato che noi non possiamo aggiungere neanche un giorno alla nostra vita se non siamo custoditi dal padre. Arriva a dire il messaggio di pace, questa volta è il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton. Cristo ha affermato il custode vissuto da pellegrino e forestiero e con la capacità di fidarsi del prossimo. Il suo spirito di fraternità, ha spiegato, è il capovolgimento della logica di Caino. Se Caino toglie la vita al fratello per invidia e per desiderio di contare di più, Gesù al contrario, dona la propria vita in riscatto per le moltitudini e per ridare la vita a chi era perduto. In questo tempo, in questo contesto a concluso, cerchiamo di vivere fino in fondo la spiritualità della fiducia, della fraternità e della pace.